Caro Massimo Giletti, buongiorno. Questo video è per te. È per te perché sei una persona che ci sta mettendo la faccia, sei una persona che si sta battendo contro le ingiustizie e contro il sistema. Personalmente ti ammiro perché anch'io sono così, ho combattuto per anni questo sistema marcio, ho pagato pesantemente il fatto che mi sono esposto, l'ho pagato sotto il profilo professionale, l'ho pagato sotto il punto di vista dei processi, delle querele, pensa che adesso solo ho 12 processi nei confronti del Movimento 5 Stelle per aver denunciato i giri che ci sono dietro i rimborsi spese. Ti facevo questo video, questo appello perché volevo chiederti di invitare in una tua trasmissione Alessandro Maiorano. Alessandro Maiorano è una persona che da sola ha smontato a Firenze il Giglio Magico. È inutile negarlo perché la verità deve rendere onore a tutti, grazie a lui e grazie ai suoi contatti con la Gabrielleschi ha portato agli arresti i genitori di Renzi e quindi ha portato fuori tutto quello che c'era dietro le cooperative, il giro di soldi enorme e per questo è stato osteggiato per parecchi anni dalla stessa magistratura e dai da quei magistrati che dovrebbero far parte almeno per quello che hanno dato modo di vedere del club Palamara. Io ti chiedo di invitare Alessandro perché è giusto che Alessandro spieghi quello che per anni è successo, a lui e al professor Carlo Tormina che è il suo avvocato storico e che lo ha aiutato in questa durissima e difficilissima battaglia. Mi auguro che tu accolga questo appello, ti saluto con immensa stima. Ciao Stefano Moretti.